Razzia alla stazione di servizio e centinaia di pacchetti di sigarette rubati a Vaccarino. I ladri hanno atteso un momento di relativa calma durante la notte lungo la Val Sugana, strada trafficata dove si trova il distributore. Hanno aperto un foro sul retro dell'edificio e hanno arraffato sigarette per circa 2000 euro di valore. Prima di agire, da veri professionisti, hanno anche neutralizzato il sistema d'allarme e così il colpo è venuto con tutta calma. Ad accorgersene il gestore quando è arrivato al lavoro al mattino, sul posto i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica del colpo. I militari stanno acquisendo informazioni e effettuando controlli in zona per cercare di risalire ai colpevoli.